Si va la prossima, quanto stiamo in top mondiale? Top 3000 Io non vorrei droppare all'ultimo gradino della Lega 9 Frank sa come funziona Clash Royale su via Allora Furia e giriamo i Babari Ora ho Babari Nefastino, terribile, attacchiamo sempre Opposite Speriamo non abbia anche Bocciatore perché in tal caso sarebbe gigante Un te elettrico Ok non abbiamo il Drago per rimuovere il Bocciatore Oh ha sbagliato l'abilità qua lui secondo me però Abilità sbagliata Lui ora deve fare Bocciatore ma io ho già il Drago Inferno per il Bocciatore Deve fare Bocciatore raga In ogni caso lui deve fare Bocciatore qua, non esistono scuse Ok ora deve fulminare Non facciamo fulminare, ok non fulmina Allora facciamo furia Allora facciamo furia Se non fulmina si Allora facciamo furia Tornado Interessante, maledizione Uh Nefastino Allora possiamo attaccare di nuovo noi però Quanto elisirà? Perché il problema ora è che ha effettivamente il Bocciatore no? Però forse ho una Scamplay Forse Forse, forse ho una Scamplay Perché lui mi ha appena giocato la Tornado E arriverà il Drago Allora è molto più forte attaccare così secondo me Nefastino lui non ce l'ha L'unica cosa davvero brutta è che io non avrò modo di fare abilities now Così impedisco di giocare Gigante Elettrico a sinistra E ora abilitiamo sempre no? E però qua le Golem fa la torre Però qua i Golem non può essere difeso No, no, infurio anche Non può essere difeso qua i Golem Se tante volte il Drago dovesse gestire fastino Io raga Stappo lo shampoo Tag Sta per giocare Bocciatore Non mi va di fare Golem per tankare Non mi va Almeno non subito Poi magari se è da fare lo farò Ok, devo giocare Golem subito Un Golem difensivo qua è obbligatorio L'idea qual è? È di giocare In realtà non la Fireball No, no, no Mi devi gestire fastino Drago di merda del cazzo Cavalierevo sarà tosto qua Qua Perché deve farci un Bombosis E io devo sacrificare un E-Golem Secondo me Ok E-Golem sacrificato Nefastino non c'è fretta di toglierlo Vero? Ok Mamma mia Mamma mia Mamma mia che partita cazzo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non so che dire Non so che dire ragazzi Non so che dire Cioè questa è una partita da canale Cioè questa è da 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 carica su YouTube Cioè la gente deve vedere sta partita Deve vederla Porca puttana raga Porca porca puttana È tanta tanta roba È tanta tanta roba ragazzi Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Non voglio dilungarmi Se pensate che Se vi piace Clash Royale Decidete voi se siete sul canale giusto o no Non dico altro Non dico altro Grazie a tutti quelli che mi stanno guardando in questo momento Non dico altro Ogni parola è superflua qua Come se ci avete di letta le otta davanti a voi Nei vostri sogni Tutta nuda Non gli dite Quando sei bella È scontato È una cosa scontata Qua raga la partita è scontata Non se può Non voglio di niente Vediamo quanto siamo in top italiana e in top mondiale Io qua raga Che vedevo di So contentissimo So contentissimo Forse so top 100 Italia Forse siamo tornati top 100 Italia Vediamo un po' No Sono Top 2003 3 3 2 1 Partita delle 1009 medaglie Andiamo Calmi Detos Ok Facciamo barbari splittate un po' in blef Perché questa mano non è buona Avrei dovuto giocare prima furia e poi barbari Ok Facciamo questa a sto punto Se devo girare carte Cazzo domatore Ho appena giocato i barbari Vediamo se ha Pirovac Ok Non ho il drago inferno per log rider Quindi eventualmente giocherò la strega Calmi Strega Facciamo anche farmer I barbari non li ho perché li ho giocati poco fa Non me la sento di giocare e golem qua però Mi sembra davvero troppo azzardato fare golem Troppo 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 Questa la facciamo E dopodiché abilities now Ho fatto prima la fireball perché almeno moriva qualche pipistrello Deve fare il terremoto Fa tronco Ho sbagliato la furia mi fa Ho blanderato No ok Gioca lo spirito Ho blanderato ma non è più così grave Occhio a domatore Pirovac Evo Brutto match up Occhio a Pirovac Evo Ho giocato il drago così spostato Almeno mi attivo centrale Capito? Sapevo che avrebbe giocato Pirovac Evo ovviamente ragazzi Sapevo tutta la perfezione io E mi son detto Almeno prova ad attivare torre centrale Non posso prendermi questi altri damage Spero Non posso proprio Ho già preso danni incredibili No? Eh non lo so qua cosa fare Ok ora lo so Ora dobbiamo provare ad andare a destra C'è molto poco da dire Ok vuole giocare Hog Rider No cazzo la Bombs Tower Ho perso Ho perso ragazzi Torre Bombi Non ho carte per rimuoverla No non posso rimuovere torre Bombi Ragazzi Questa è 100-0 totale per l'opera Purtroppo Davvero super counter Dispiace Dobbiamo accettare ragazzi Che abbiamo trovato un matchup del merda Semplicemente Guarda c'è un'altra pirovacca Non ce voglio credere Non ce voglio credere C'è un'altra pirovacca Eh faccio così ragazzi Devo rimuoverla subito 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 I think E infuriamo di qua però Almeno sì Le pirovacche evo dell'opponent Ci danno meno problems Però guardate Ho fatto bei danni Calmi Il blob dovrebbe fare Qualche altro damages Nah Perdo la torre comunque Qui ho blanderato io Qua ho blanderato io Qua ho blanderato il nefasto Porco Giuda se sono messo male Tre cavalieri Eh ho perso ragazzi Eh GG Ho provato a giocarla ragazzi Fino a quando ho potuto Cioè fino a quando Se poteva far qualcosa Ci abbiamo provato ragazzi Qua non c'ho più niente Niente Eh GG ragazzi Ma è davvero troppo Troppo counter Io davvero non me posso lamentare Fa semplicemente telemoto È giustissimo ragazzi È troppo counter Contro le bombi Avesse avuto già Teslo occulto Avrei potuto pure vincere Per carità Conoscendomi anzi L'avrei vinta Perché sto a giocare davvero bene Ho attivato bene La torre centrale E tutto Però qua ragazzi Siamo davanti davvero Uno dei peggiori deck Che posso trovare contro E quindi va bene Dobbiamo fare un altro tentativo Dispiace Dispiace Ma va bene Più 26 Meno 26 Giusto Anzi Che più 26 Meno 26 va Benissimo ragazzi Siamo ancora Top 2009 Questo era il live Probabile Probabile Non lo so Cioè potrebbe essere Non ne ho idea Raga Bella play comunque Di Drago Inferno Predictandovi Rovackeva Ormai ho capito Come giocano i massi Riesco a capire Diciamo A fare le migliori Però qua c'è poco da fare No Cioè Era davvero difficile Che Dio ci amandi buona E senza mutande Ragazzi Per la prossima partita Per il prossimo game Andiamo Siamo a due partite Ora dalle 1900 Due partite Tre partite Forse alla top 2000 I don't remember Questo è il clan di Sniper Per eccellenza Allora Vediamo Carte terribili Favoloso Giochiamo il King E aspettiamo Però qua devo aspettare Devo andare con una calma Incredibile Non ho Barbary Può essere di tutto Potrebbe avere Gigante Elettrico Conoscendo il clan È probabile Che abbia Gigante Elettrico Quindi Borciatore Potrebbe fare anche Nefastino Se è Sniper Invece Sembra di no Va bene Attacchiamo così Potrebbe anche avere Bowler Mongol Ah Ce l'ha invece Mannaggia a me Mannaggia a te Nefasto Vedi Non Non devi adagiarti Sugli Alloris Esatto È Gigante Elettrico Purtroppo Ragazzi Veramente poco da fare L'abilità Non la fai Ha valutato Che non era importante Fare abilità Fa Tornado Però comunque Spende molto Elisir In teoria Spende comunque Del bel Elisirino I Barbary Sembrano interessanti Inoltre Sembrano molto Interessanti I Barbary Laggiù Fortuna Che ho riconosciuto Il clan E ho capito Che poteva essere Gigante Elettrico Ragazzi Questo è stato Fondamentale Ho paura di Nefastino Non gioco mai altro Paura molto Di Nefastino So che fa dei danni Incredibili Ragazzi Ma io ho queste carte Purtroppo Non ne ho Outers Non ne ho Proprio Outers Posso giocare queste Basta Ok Dovrei essere Un pochino sopra Soprattutto se lui Difende di là Bene 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 Vediamo se fa Bocciatore O Nefastino Se fa Bocciatore Devo tirare lui Nefastino Eh vabbè Ma tanto dovrà giocare Lui Dovrà giocare Il Boccia Secondo me Facciamo No ho sbagliato Me lo gioca a sinistra Ora cazzo Se mi arriva in tempo La fire Wow Questo è un blunder Secondo me Dell'opponent È un blunder È un blunder atomico È un blunder atomico Vai drago Difendimi Ti prego Difendimi da Chumba Wombosis Ho fatto due torri L'opponent Ha buttato accesso La partita Ma ha mai giocato Questo mazzo L'opponent Prima di adesso Lo ha mai giocato Che non è facile Sbagliare Io qua Gli metto pressione Innanzitutto Vediamo se riesce A non giocare Tornado Sul drago Innanzitutto Poi si vede Allora Mandiamo le truppe Indietro In ogni caso Deve fare Tornado Esatto Perché se no Ha perso la partita Però qua Arriva una furia Della madonna Il discorso È semplicemente Questo No Buono Sta giocando male Sì Ha fatto degli errori Un giocatore Di gigante elettrico Che arriva vicino La top 2500 Mi gioca così Cioè O è stanchissimo Diltatissimo Oppure ha miscliccato Poco a dire Quanto stiamo adesso In top italiana Scusate C'è un equivalente Della top 150 Cioè Io comunque Sto Top 150 Italia Butta a caso No Dovrei essere Top 100 Ecco Io sono in top 100 Italia Quanto stiamo in top mondiale Giusto per fare cose facili Un top 2400 Al mondo Come l'opponent Non può giocare così Andiamo Partite le 1900 19 Qual è stato il tuo record Di abbonamenti Su Twitch 1500 1500 qualcosa Un po' meno di 1600 Abbonati Durante una maratona Ho raggiunto Vediamo Valk Non ho Drago Inferno So che sono sotto Ad abilità Purtroppo dovremmo Infuriare basta E prendere dei danni La furia subito Non ce l'ho avuta Altrimenti l'avrei tirata Ve lo giuro Sapete che so Queste cose Che si gioca così Vi prego Non infierite Quali anime le voglio Però Ha giocato Valkyrie Ha giocato Nefastino Abilities now Secondo me Ancora Interessa Infatti lui E forse ripari Vedete Ha giocato Anche il minatore Si è reso Wow Ha giocato Un po' di Resip Però qua Si Ok Istantanei Barbari Qua solo Barbari Sono buoni Spero Non abbia Torre Bombi Se la Torre Bombi E' persa Devo andare Con calma C'ho Nefastino E' triste Giocare Qua E' golem Secondo me Molto triste No Molto Molto Triste Ti prego Fammi nefastino Ora Perfetto E' la nostra Occasione Se la Torre Bombi Comunque è persa Quindi non mi pento Della play Oh Abilità Dovrebbe fare Beleno Con segne Cazzate varie Dove Ah Oh Vabbè raga Purtroppo abbiamo Perso la partita Purtroppo si Almeno la Valk Giocamela A destra La Valk Evo Eh Non riusciremo Qua guys Poco a dire Drago Inferno Addirittura Gioco Eh raga Finita Finita Malissimo Altro che no Ancora in vita Eh GG Non ho niente a dire Raga E' super counter Nefastino Torre Bombi Meglio di così Lui non può trovare Oh Dimmi che fai un passo E non posso giocare Altro Purtroppo Non ha Il Kevo Se non altro Ok Deve fare anche Wallbreaker Secondo me Non li fa Bravo Questo non può Essere buono Mi rifiuto di credere Che questo rocket Sia buono Mi rifiuto Magari difende uguale Perché davvero Ce le ha tutte E quindi magari Riesce a difendere So che sembra assurdo Ma E' assolutamente possibile Io abiliterei qua Però guys Se devo essere disonesto Abiliterei E infurerei di qua So che sembra assurdo Infatti Mi sa che ho blanderato No Ce n'ha una noder Non ci credo Guys C'è un'altra Bombstower Ha giocato la valchiria Da poco Ci proviamo A scammare Questo è un po' Basic Di play Però Scusami Wallbreakers Così sono un po' Basic Madonna Ragazzi Madonna Becco solo 100-0 totale E vinco Il problema È che vinco Top 2000 Al mondo Speriamo bene Ragà Tanto Tanto Contento Tanto 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 Contento Sopra Spot Raga Top 2008 Nuova partita Raga Andiamo Partita della Top 2000 Al mondo Non sto clickbaitando Se vinco questo Questa Raga Arrivo in Top 2000 Non sto clickbaitando Assolutamente No Andiamo Mignota Dovrei difendere Quella a sinistra In teoria Che culo Che culo Mega 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 Knight Un buon Matchup Però Peccato Che non Qua non Oh god Devo abilitare Mi sa Fortuna Mega Knight A destra Quindi non giochiamo Farmer Giochiamo subito Una soluzione Per il Mega Knight Che predictiamo Occhio a pipistrellini Ora ragazzi Ho paura di pipistrellini Non so dove me li fa Ma ho paura di Eccoli E io l'ho detto Ragazzi Però che avevo paura Di pipistrellini Io l'ho detto Ragazzi qua Ho proprio detto Ho paura di pipistrellini E' triste Ma dobbiamo fare Hittare i Wall Breakers E' molto triste Ragazzi Vi chiedo di fidarmi di me Qua i Wall Breakers Devono hittare Matematicamente E' triste Perché ora sono Sotta Principe Dovrò giocare Non so se riesco A ciclare i Barbari Aspetta Su Principe Forse attacco addirittura Che faccio su Principe Ok posso fare Golem dal fondo Il Farmer E' praticamente Inutile valorizzarlo Dispiace Perché era carino No però Occhio però A Principe A destra E' a sinistra Scusate Ho detto destra Vero? Intendevo a sinistra Avevo preparato No a sinistra Occhio a Mega Knight Qua Qua sono tanto Sotta Mega Knight Dobbiamo predictare Mega Knight Secondo me Bravo l'opponent Ehi Un altro golem Allora Che problema c'è Scusatemi Ehi No Che bella zap spell Però dovrebbe essere Comunque partita persa Per l'opponent Ragazzi Dovrei essere arrivato In top 2000 Al mondo Io ho predictato Tutto raga Io ho predictato Tutto raga Cioè che deve fare l'opponent Che deve fare Cioè gli ho predicto tutto Cioè tutto Non lo lascio giocare So 100-0 Perché io qua lo devo dire Per sincero Per onestà Non l'ho lasciato respirare Come è giusto che è Quando uno è counter Deve giocare così Non deve Se gioca bene L'avversario non respira E stravince così Continuiamo raga Top 2000 Voglio la top 70 Italia Ci tengo raga Ma è di 3, 2, 1 Vediamo se siamo Top 1800 al mondo Wow Oh madonna santa ragazzi Top 1600 al mondo Top 1600 al mondo 3, 2, 1 No a partire Focusatissimi raga 20% 20% Come è la percentuale Di sanità mentale Che mi è rimasta Cerchiamo i barbari Non li ho Non ho i barbari Non sto clickbaitando Se a scintilla Non sono messo male Ma neanche bene Non è il massimo Calmi Potrebbe essere Mega Knight Potrebbe essere anche Mega Knight Con un po' di culo Però io non voglio rischiare Delle volte Ok è Mega Knights Sono counter Sono counter È la versione con gang Mega Knight Dovrebbe essere Non possiamo abilitare Qua è davvero debole L'abilità E qua so che nessuno Avrebbe fatto sta play Ma mi servono troppi Barbarievo ragazzi Mi servono davvero troppo Devo trovare una soluzione Per Mega Knight Un Mega Knight Che Probabilmente lui Vorrebbe giocare A sinistra in realtà E io non riesco A fare il drago Però Credo di doverlo fare Comunque Anche se non è bellissimo Sto drago Oh god Sapete che mi sa Che ho sbagliato il drago Invece No non l'ho sbagliato Non l'ho sbagliato Ragazzi Faccio frecce Ma davvero Perché non voglio rischiare Perdo un ottimo Matchup Qui sono stato fortunato Non Davvero Preferisco Fa' ste frecce Complicarmi un po' La vita Che buttà Arcesso Una partita Un matchup Davvero Ottimo Anche se ora Dovrebbe avere Pipistrelli Evo Quindi Quanto voglio rimuovere Pipistrelli In questo momento Perché lui potrebbe fare Minatore dopo Pipistrelli Qui fa Pipistrelli Evo Ah li fa di là Pipistrelli Evo Giocata interessante Qua dell'opponent Ammetto che è interessante Facciamo anche questa Ma non valorizzi Pipistrelli Evo So che si fanno Un botto di danni Ma Qua mi può andar bene Prendere questi danni Soprattutto se posso Predictare Mega Knight Ora no Andiamo rigorosamente Opposite Poi eh Le anime qua servono Credo che l'abbiate capito Le anime qua servivano tanto Sì Sì Le anime qua servivano Davvero tanto no Il drago è full vita Il farmer è Devastantemente forte In questo spot È davvero tanto forte Il farmer Ovviamente io raga Qua l'ho detto Sono 100-0 totale Io l'ho detto Non posso mai dire di no Ovviamente qua Non c'è motivo Per non difendere Quei barbari Anche se magari È una giocata un po' triste La partita è praticamente Finita Letteralmente finita Qua abbiamo anche La freccia Manca a farci apposta Abbiamo anche un ottimo Saikor Lui deve attaccare Deve difendere Volevo dire Non potrà mai Attaccare qua ragazzi Come vorrebbe lui E quindi noi lo pressiamo Per non fargli giocare Qualcosa in attacco Bella win Ma devo dire la verità Buona fortuna Non lo biemmo Perché qua Sono davvero counter Purtroppo Perché era davvero Difficile perdere Questa partita Ve assicuro Che è molto Ma davvero tanto Più difficile Perdere questa partita Che vincerla Top 60 Italia Top 60 in Italia Ma che ve devo dire ragazzi Top 1250 al mondo Nooo Che dio c'è la mandibona E senza mutande Partita Della top 1200 al mondo Ora Trovare un counter Ci sta Ho trovato Bei mashup Se trovo counter Non mi devo demoralizzare Non devo tiltare Va bene Abbiamo trovato Il guardiano Del cancello Babari Vediamo Merda di vacca Potevo gestirlo Potevo gestirlo Cazzo E' italiano Dite Oh Queen Male Ok Sabocciatore ho perso Però devo fare Credo questa play Quasi sempre Credo che debba farla Wallbreakers Sono interessanti Mannaggia Anche i wallbreakers Ha danneggiato in parte Le golem Solo in parte Però Oh Ho blanderato Ma ho blanderato La queen Il farmer Volevo dire Qui lui deve fare Mega knight Credo Giusto Giusto Deve fare Mega knight Tanto il mazzo Mi ricorda molto Un mega knight Poco da dire No Mi ricorda molto Mega knight Come deck Potrebbe fare Pipistrelli Ma non so Se voglio tirare frecce Wallbreakers Va bene No Che bella play Che mi ha fatto qua Oh Ne ho un altro Però mi sa qua Qua dovrei averne un altro Perché lui ha giocato Davvero tante Lysir Se non ricordo male In questo spot Ne ha giocato davvero Davvero tanto Andrei anche con un Dragon Bagen Vi dirò Vorrei pressarlo tanto Ok Ha giocato di nuovo Wallbreakers Che poi manca Faccia apposta Hitta Non è comunque Sti wallbreakers Però ha preso Un'altra torre lui Ok Va bene questo Tower trade Mi va bene il Tower trade Aspettiamo che giochi Others Non gioca nulla Facciamo frecce qua Noi Facciamo frecce Calmi Non è detto che io Dovessi difendere Per forza qua Non è detto Non è detto Forse si poteva Anche non difendere Questa è forte Perché mi sta per fare Mega night Purtroppo E non posso fare Abilities now Secondo me È sbagliata L'abilità Ok Giocata perfetta Della furia Va bene Dobbiamo andare Di golem Mi sa La quindera Dei problemi Oh Are you serious man Perdo la torre Non so mica Se riesco a giocare I barbieri Dimmi che Mariono in tempo Le frecce Cazzo Non mi sono arrivato In tempo Però comunque Ho una torre di vantaggio C'è da dire anche questo Ho comunque Una torre di vantaggio Netta proprio Arriva un altro Golem inoltre qua Dovrà difendere Dai parliamoci chiaro Come fa a non difendere Una roba del genere lui Come fa ad attaccare qua So fare fireball Addirittura Paradossalmente So che sembra assurdo So che sembra Davvero completamente Assurdo Ma credo sia buona Ero completamente Counter Gli diciamo Buona fortuna Ma ero totalmente Counter Ero 100 Zero Totale Ho vinto Ma ero troppo Counter Per essere contento Ero troppo Counter Siamo arrivati In top 2000 Al mondo Top 2000 Medaglie Volevo dire Top 50 Italia Mamma mia Raga Momento solenne Hashtag solenne Vediamo se siamo Top 1200 Al mondo Ragazzi Top 1160 Al mondo Andiamo 2004 medaglie 2004 medaglie È un onore Essere nato Nel mondo In cui lei È in top 1200 Matteo Per favore No un saluto Dal tirchiaccio Che cazzo sta dicendo Ma che un saluto Dal tirchiaccio Ma si vergogni No Che è un saluto Un saluto Dal nefasto Greninja Che è anche Un pokemon Ed è anche Riguardo pokemon Greninja È anche l'ultima Porca mignotta È anche l'ultima Carta gold star Uscita Abbiamo perso Probabilmente Ah raga 100-0 totale L'opponent Ho trovato Buoni mashup Fino adesso Ma qua raga È il mashup È tutto È l'opponent E sì Lo devo dire Qua l'opponent È davvero 100-0 totale Siamo dinanzi Un 100-0 totale Abilito Ma è tutto Un blef Tutto Tutto Un blef Non credo sia Effettivamente È infatti Difende senza problemi E sta peggio Che anche Domatore Con pirovacca Predictiamo La pirovacca Con il drago Per provare Ad attivare La torre centrale Matchup Davvero Bruttissimo Questo Qui è 100-0 Totale Lui Vediamo Se fa anche Pirovacca Non la fa Non la fa È anche bravo Quindi Mi volete dire Finita È finita Pirovacca Aspettiamo Che magari Fa anche Tesla Che dite Non fa Tesla Eccola Però cazzo Non mi arrivano In tempo I bastardi Abiliterei Comunque Raga Anche se So che Fa veramente Vomitare Sta play La furia È arrivata Dopo 10 Anime Questo Non fa Piacere Per nada Però Pirovacca Evo Cazzo Che palle Mi sono Dimenticato È arrivata no 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 Devo pressare Devo pressare No Okrider Dai veloce Veloce drago di merda Questo è il press più grande che ho trovato Ragazzi Occhio a pirovacca Devo difendere qua però Se non difendo è È troppo rischioso Comunque non dovrebbe fare la torre Ma non sono neanche io sicuro di fare l'altra torre dell'Ottolent Oh madonna santa Oh madonna santa Oh madonna santa Cosa sto vincendo Madonna santa Madonna santa Perché questa partita È davvero tanta roba Niente scontato ragazzi Non è niente scontato Vincere questo matchup Grazie Narciso per tutti i GG Dovrei essere top 40 Italia O comunque lì vicino Top 40 Italia ragazzi 3 2 1 Top 1100 Sì 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 Grazie.